Sembra strano ma è così, perché è in discesa una testa a controllare il peso. Va beh, vabbè, ci vediamo in più. Dai, non penso che nei prossimi giorni diremmo molto pensiero. Noi siamo veramente responsabili, e grazie al Movimento 5 Stelle che fa, non serve. Noi abbiamo incalato la tante situazione su percorsi democratici, perili, perili, e continuiamo. Grazie a tutti.